Non so se si vede, ma ragazzi, ho fatto l'orecchino! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare dell'orecchino, degli accessori da uomo come tatuaggi, orecchini, dei pro e i contro, del perché l'ho fatto, raccontarvi un po' la mia storia, di come l'hanno presa le agenzie con cui lavoro, perché lavoro nel mondo della moda, dei miei genitori, come l'hanno presa, e quindi un po' i pregiudizi di quello che pensano le altre persone, perché alla fine ho scelto di farlo e quindi un po' raccontarvi la mia idea su questi accessori. Sono andato a farlo in farmacia, quindi ho pagato circa 20-25 euro e mi hanno fatto scegliere tra vari orecchini, la farmacista è stata molto brava, hanno tipo una pistola che ti spara dentro l'orecchino, non fa male, è come un pizzico che ti fanno, come una puntura di insetto, ecco, non fa molto male. Mi dicevano che avrebbe fatto male per due, tre giorni, una settimana, in realtà non mi fa male, mi dà un po' di fastidio, la sera devo semplicemente mettere un po' di disinfettante, la mattina ho trovato un trucchetto che è un po' con la saliva, un po' con il disinfettante per farlo guarire prima, però per sei settimane devo per forza tenere questo qua piccolino. C'erano varie misure, varie taglie, alla fine ho preso quello che si vedeva un po' meno. Non sapevo nemmeno se dirlo ai miei, infatti i miei non l'hanno presa molto bene, poi vi spiego il perché, ma in realtà anche per me è stato un grosso cambiamento, quindi perché ho deciso di farlo? Allora, io in realtà tatuaggi, piercing, orecchini, sono cose che non avevo mai preso in considerazione, non mi sono mai piaciuti e non avrei mai pensato di farmi un orecchino su di me. Però diciamo che dall'anno scorso ho iniziato un po' questo percorso di crescita interna, crescita spirituale con lo yoga e la meditazione, e ho iniziato a fregarmene un po' di più, di fregarmene in meno o di più, in senso mi interessa meno quello che le altre persone pensano su di me, e anche quello che penso anch'io in realtà sul mio corpo, sulla mia parte fisica. È una cosa che comunque c'è, ma non è il centro della mia attenzione. E quindi per tutta la vita, diciamo, mi sono un po' espresso soprattutto con parole, con energia e altro, in altri modi quello che sono, ma non ho mai dato, mi vesto sempre di nero, ho sempre cercato di essere il più basic possibile per non far trasparire o per non identificarmi troppo in nessun gruppo o altro. In realtà ultimamente questa cosa sta un po' cambiando, e forse un po' sto crescendo, forse un po' questa mia crescita interna, e diciamo che da un po' di tempo vedendo i Maneskin, vedendo i BTS che hanno questi orecchini lunghi, eccetera, mi è un po' venuta la voglia di provare ad avere un orecchino, e tanta gente ho chiesto e mi hanno detto che starei bene, ovviamente vorrei farmi l'orecchino pendente, oppure il cerchio quello grande, solo che devo aspettare queste sei settimane, e dopo ovviamente lo farò, ma ero sempre un po' insicuro perché comunque è qualcosa di permanente, il buco comunque rimane, poi si vede, eccetera, eccetera. E invece dopo un po' ho detto, ma sai cosa? Ma, cioè, il mio corpo è questo, un buco non se lo calcola nessuno, perché io lavoravo, lavoro nel mondo della moda, della recitazione, quindi avevo paura che potesse influire, qualsiasi cicatrice, qualsiasi cosa influisce. Poi invece mi sono guardato un po' su internet, ho visto che Johnny Depp, Brad Pitt, Keanu Reeves, Vin Diesel, tutti gli attori più grossi a Hollywood, e anche tantissimi modelli hanno tutti, o hanno avuto gli orecchini, quindi mi sono un po' detto, ma è un accessorio come qualsiasi altro. Magari tempo fa era visto in un altro modo, adesso invece è visto semplicemente come un accessorio, soprattutto per gli uomini, c'è questo tabù. Quindi ho deciso di farlo, ho detto, si vive una volta solo, a chi se ne frega, l'ho fatto, sono tornato a casa, mio padre non mi ha parlato per un paio di giorni, mia madre l'ha buttata un po' a sorridere, quindi va bene. Però appunto diciamo che, e infatti voglio parlare adesso del tabù, diciamo che quando nelle nostre generazioni, la generazione Z o i millennials, vedono l'orecchino in modo diverso dalle generazioni precedenti, come i tatuaggi. È vero, l'orecchino è qualcosa che comunque hanno sempre avuto nella storia, i vichinghi ce l'avevano, ce l'avevano i romani, ce l'avevano i nobili, anzi era una cosa peculiare dei nobili. Solo che poco tempo fa, quando è partita la televisione, diciamo l'orecchino era associato un po' a cattive persone, era associato un po' ai vandali, era un po' associato anche ad altre etnie, quindi entra anche in gioco il razzismo. I militari se lo facevano quindi gente comunque rude, gente di un certo tipo di classe sociale. Quindi è anche i tatuaggi è stessa cosa, piercing neanche ne parliamo. Quindi nel momento in cui io vado da mio padre, che ha 70 anni, a dirgli che ho fatto l'orecchino, ovviamente non la vede come la vedo io. Provo a spiegarglielo quanto vuoi, che al giorno d'oggi è solo un accessorio, che al giorno d'oggi tutti ce l'hanno, che al giorno d'oggi non cambia molto l'opinione che gli altri hanno verso di te, se hai l'orecchino o altro, però in realtà non puoi convincerlo. E infatti anche al giorno d'oggi, secondo me, sì, è una cosa comune, però è sempre, non è ancora vista come quello di una donna. Ovvero, la donna comunque con gli orecchini è una certa cosa, può anche indossarli al lavoro, è molto elegante, eccetera, eccetera. Un uomo può farlo, stessa cosa, idem, però c'è quel minimo pregiudizio che ancora deve svanire, sul fatto che l'orecchino viene indossato solo da alcuni tipi di persone, come un tatuaggio. In realtà anche i tatuaggi, se voi notate, se una persona ha un tatuaggio o meno, non importa che sia bello, brutto, che abbia un significato, non ce l'abbia. Quando tu la inquadri, così, a primo impatto, se ha un tatuaggio o non ce l'ha, o se ha un piercing e non ce l'ha, o se ha un orecchino o non ce l'ha, automaticamente la tua impressione di quella persona è diversa da se ce l'avesse o non ce l'avesse. Non in peggio o in meglio, ma è un pelo diversa, perché se se l'è fatto, quel tatuaggio, probabilmente è un tipo di persona, un tipo di carattere, un tipo di storia diversa da qualcuno che non l'avrebbe fatto. Quindi diciamo che, un po' come tutto, un pregiudizio ce l'ha, ma è proprio per questo che ho deciso di farmelo, perché mi piaceva un po' l'idea di aggiungere qualche accessorio, esprimermi un po' di più a livello estetico, anche quello che piace a me, ecco. Volevo farne due, ma poi in realtà ho optato per uno, perché ho visto che la maggior parte dei ragazzi ne ha uno, ho visto che, dato che ero un po' indeciso sul farlo o meno, intanto inizio con uno, poi vedrò, e poi ho deciso di farlo sul sinistro, perché anche qua c'è un pregiudizio, una credenza stupida, la farmacista mi ha suggerito di farlo sul sinistro, perché il destro ce l'hanno gli omosessuali, e quindi... già capite? Che è un accessorio, un buco che si fa nel lobo dell'orecchio di un animale, di una scimmia che cammina su un pianeta, ha così tante idee, dà così tante cose alle persone, che capite che diventa un po' particolare la situazione. Quindi avevo un po' anch'io di pregiudizi, e poi ho voluto farlo, perché comunque, secondo me, nelle nuove generazioni, questa cosa sta pian piano calando, ognuno può fare un po' quello che vuole con il proprio corpo. Al lavoro forse viene visto ancora un po' malino l'orecchino da uomo, però piano piano, già vedendo anche personaggi grossi che ce l'hanno, magari un diamantino, oppure un po' più leggeri, un po' più particolari, quello diciamo che si può fare. Poi comunque ragazzi, si può sempre togliere, quindi in caso me lo tolgo e non c'è nessun problema, il buco si richiude, non si richiude, non mi interessa. in ogni caso è una cosa che secondo me volevo provare, mi sarei pentito a non farla e non vedo l'ora di provare a mettere qualche orecchino più lungo che secondo me i pendenti stanno molto bene su un ragazzo con i capelli lunghi e vedere qualche pregiudizio un po', qualche critica un po' che già ne ricevevo un po' sui capelli, adesso lo ricevo anche per l'orecchino. Quindi ecco qua ragazzi, io penso che ognuno al giorno d'oggi possa, come vi ho già detto nel video dei capelli, esprimersi come vuole, indostare quello che vuole, fare quello che vuole e penso che il corpo fisico sia veramente come ci esponiamo agli altri, gli diamo veramente troppa importanza a questa cosa. È un corpo, è un accessorio, è qualcosa che abbiamo preso in prestito dalla Terra, è qualcosa che dovremmo ridare completamente indietro quando moriremo, atomo per atomo, ogni singola cellula, quindi diciamo che lo si può addobbare, trattare come si vuole, cercare di essere secondo me portarlo al massimo potenziale, quello si, però diciamo che se uno vuole esprimersi e dare una certa idea o mettersi quello che vuole addosso nella società, perché impedirglielo o perché criticarlo o vederlo in un certo modo solo per un anellino che ha nel buco dell'orecchio? Anzi, secondo me vi dirò, dà molto carattere, quindi sono contento di aver fatto questa scelta. Vedremo poi come andrà, comunque intanto, ecco qua. Spero che il video vi sia piaciuto, io, questa è la mia opinione che ho su tatuaggi, accessori, eccetera, eccetera, di solito tendo a mettere meno possibile, però non mi piacciono tanto gli accessori da uomo, non mi piacciono tanto le collane, eccetera, preferisco stare sul basic, però un orecchino secondo me come accessorio anche per le agenzie e per altro non può dare problemi, anzi, magari un brand può anche dire, beh, io ho anche gli orecchini da uomo, al giorno d'oggi il gender fluid va molto, quindi orecchini da uomo iniziano ad esserci dappertutto e quindi secondo me può anche essere un bonus per un modello che indossa un capo in più. Spero che vi sia piaciuto, inizierò a fare anche qualche foto a riguardo e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!